Don Antonio buongiorno. Ciao buongiorno la frase è una frase vecchia ma va bene ogni tanto ripeterla soprattutto per noi che parliamo le parole sono pietre o costruiscono o uccidono. E vale sempre. Grazie Don Antonio un abbraccio forte. Brugnoli annuisce Ricordiamolo eh? Sì sì. Eh Gianni una bellissima frase. Assolutamente veritiera. E noi amiamo costruire lasciamo perdere insomma chi si diverte a lanciarle le pietre. Don Antonio Mazzi torna domani.